buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar questo seminario online in cui affronteremo alcuni degli aspetti principali e delle idee che sono a monte dei modelli in generale ma anche dei modelli vulcanici e alla fine del seminario faremo useremo proprio un modello per fare una simulazione simuleremo la deformazione superficiale di un vulcano in particolare il collasso di una parte dell'edificio vulcanico il mio nome è erica ronchin e sono un assegnista marie curie alla sapienza università di roma al dipartimento di scienze della terra oggi siamo qua ospitati dallo shifa blab che scientific fabrication laboratory dell'ic tp il centro internazionale di fisica teorica di trieste che ci ospita con gli spazi ma ci dà anche gli strumenti per fare i modelli e ci aiuta con la regia ci permette di fare questo webinar io sono una vulcanologa studio studio vulcani il mio progetto si chiama peak folk ed è supportato da una borsa della comunità europea intitolata ad una ricercatrice plurie premio monobel marie curie che appunto supporta i supporti miei studi parte del mio lavoro è l'interpretazione delle deformazioni che si osservano in superficie in aree vulcaniche attive per interpretazione intendo cercare di trovare la sorgente ovvero la ragione per cui osserviamo determinate deformazioni in superficie nelle vulcaniche attive per esempio in modo molto semplice se abbiamo un vulcano a causa di una riempimento della camera magmatica della camera magmatica questa camera magmatica si espanderà e genererà una deformazione in superficie che tenderà a spingere le rocce in questo modo e quindi ad aumentare il volume della superficie del vulcano questo ci permette anche di cercare di interpretare come per esempio il magma prima delle eruzioni si muove all'interno della crosta terrestre per uscire e poi eruttare questo viene fatto attraverso i modelli che creo i modelli sono sempre una semplificazione della realtà e dietro i modelli ci sono delle idee dei concetti che andremo a vedere tra poco mi farò aiutare da alcune immagini che ho preparato e che mi accompagneranno nella spiegazione che la regia adesso mi aiuterà a farvi vedere allora per spiegare alcuni concetti fondamentali comuni al processo di generazione dei modelli mi aiuto con l'esempio di una mucca sì ebbene proprio una mucca come abbiamo detto i modelli sono delle rappresentazioni semplificate della realtà che vogliamo studiare ma perché semplifichiamo perché gli eventi naturali che vogliamo studiare sono la combinazione in realtà di fenomeni molto molto complessi e anche se sembrano avvenire in modo semplice in modo naturale in realtà difficilmente sono riproducibili con un unico modello allora quindi dobbiamo semplificare un tipo di semplificazione può essere per esempio concentrarsi su aspetti ben definiti della realtà che vogliamo vogliamo studiare e tralasciare il resto forse la semplificazione più immodiata che viene in mente e salta all'occhio è proprio la semplificazione di forma un esempio simpatico di semplificazione è la storia umoristica del modello della mucca sferica che narra di come un fattore preoccupato per la produzione del latte delle sue mucche ha chiamato un po raccolta tutti gli ingegneri chimici e i fisici della zona per richiedere per chiedere una soluzione per come produrre più latte arrivano e dopo molte misurazioni discussioni analisi alla fine la relazione è stata lasciata al fisico che baldanzoso si è presentato dal fattore dicendo che ha trovato finalmente una soluzione al problema ma c'è un ma funziona solo se la mucca è sferica vive in assenza di gravità eppure anche nel vuoto potete immaginare il disappunto del povero fattore che non avrebbe mai potuto avere quel tipo di mucca in quelle condizioni come questa è una storiella che prende in giro il fisico ma in genere anche tutti quelli che usano i modelli estremezzando il concetto di semplificazione ma in realtà ogni modello ha delle semplificazioni e funziona proprio perché è semplificato ovviamente se introduciamo delle semplificazioni ci con questa introduzione delle semplificazioni implica anche l'introduzione dei limiti del modello e delle incertezze per esempio se volessimo valutare il volume della mucca assumendo che sia sferica come ho detto prima sicuramente sbaglieremo di un po l'importante però è conoscere che ci sono questi limiti e delle incertezze nelle soluzioni che troviamo questo non vuol dire che le soluzioni siano inutili ma che hanno dei limiti che devono essere discussi ovviamente ci sono diversi gradi di semplificazione che dipendono da quello che vogliamo studiare per esempio se siamo interessati a capire come funziona l'orecchio di una mucca un'altra semplificazione di forma che possiamo fare è focalizzarci sulla parte geometrica dell'orecchio per esempio modellare proprio benissimo la forma ma semplificare semplificare estremamente in modo estremo il resto a cui non siamo interessati un'altra semplificazione è quella dei processi presi in considerazione ad esempio se mi voglio concentrare solo su concentrare solo sui processi che avvengono attorno alla mucca posso tralasciare quelli che vengono all'interno così come per esempio in questa in questa immagine dove abbiamo una mucca nella galleria del vento le semplificazioni di un modello sono onnipresenti e nonostante i modelli possono anche apparire molto molto complessi come nel caso qui sotto a destra in cui si vede la forma proprio rappresentato molto bene della mucca in modo complesso anche 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 pur essendo complessi questo modello è sempre una semplificazione perché si occupa in questo caso esclusivamente della superficie della mucca ma non tiene in conto altri aspetti per esempio come digerisce l'erba o altri o altri aspetti cui si può essere ci può pensare insomma nessun modello alla fine è perfetto i modelli sono per principio non perfetti perché in qualche modo lasciano sempre fuori qualche aspetto della realtà ma l'obiettivo principale è che che il modello sia utile per esempio per capire come funziona qualcosa oppure per predire cosa accadrà quando cambia un aspetto importante del modello come le dimensioni la temperatura o altri aspetti ma quali sono gli aspetti importanti ci si chiede prima di tutto dobbiamo definire gli aspetti del modello o quelli che ci aiutano a descrivere il modello stesso nel caso della mucca per esempio quanto è larga quanto è alta per quanto riguarda qual è l'aspetto parametro parametro importante lo scopriamo con il modello stesso cambiando i valori del parametro e vedendo essenzialmente cosa succede se cambia tanto quello che succede allora l'aspetto importante per quello che vogliamo osservare e ovviamente il grado di importanza di un aspetto dipende sempre da cosa siamo interessati ad osservare certo che una volta che abbiamo gli aspetti e che li abbiamo scelti che descrivono la mucca dobbiamo anche poterli misurare per quantificarli e controllarli quindi abbiamo sia i parametri gli aspetti del modello e le loro misurazioni abbiamo parlato tanto di misure adesso ma perché ne abbiamo parlato perché un modello ci aiuta se possiamo misurare anche quello che succede se cambiamo qualcosa ovviamente dobbiamo misurare per confrontare cosa succede dobbiamo poter ripetere l'esperimento tante volte ecco quindi che una volta che abbiamo un modello per esempio quello della mucca è importante che sia valido ovvero che riproduca quello che voglio ma anche ripetibile riproducibile ovvero che posso ricrearlo nello stesso modo e con le stesse condizioni ovvero se lo posso ricrearlo lo stesso modo delle condizioni e se lo faccio ottengo le stesse soluzioni questo mi rassicura sul fatto che se cambio qualcosa che posso controllare e misurare come il parametro posso poi interpretare quello che succede in base a quello che ho cambiato infatti in genere ripetiamo l'esperimento con il modello cambiando qualcosa per esempio forse vi sarete accorti che su una mucca ho cambiato il colore e ho fatto una mucca blu in questo caso cambiare il colore della mucca non cambia ovviamente le dimensioni della mucca stessa non cambia la larghezza non ne cambia l'altezza quindi le misurazioni saranno uguali ma se cambiassi per esempio la quantità di cibo per un altro parametro che le do ogni giorno la storia sarebbe ovviamente diversa ok adesso abbiamo parlato un sacco di modelli ma alla fine i vulcani come si modellano potrei dire un po allo stesso modo ovvero con le stesse idee di fondo che abbiamo già visto ovvero la semplificazione la definizione dei parametri importanti e la ripetibilità del modello ma perché i modelli sono così importanti per i geologi i modelli ci aiutano a capire dei processi naturali geologici che altrimenti direttamente sono difficili o addirittura impossibili da studiare perché sono processi che avvengono in tempi lunghissimi diciamo anche di milioni di anni iniziate ancora prima delle prime osservazioni quindi non abbiamo registrazioni delle osservazioni e non possiamo aspettare così tanto per osservare cosa succede inoltre ci sono altri problemi come per esempio i processi geologici hanno scale di lunghezza enorme a volte decine di migliaia di chilometri per non parlare di un'ulteriore complicazione che ovvero che per i processi che avevano in profondità per esempio appunto come nelle camere magmatiche non possiamo avere osservazioni dirette non possiamo andare all'interno di un vulcano attivo allora sì è utile usare i modelli anche per studiare i vulcani per seguire un po' quello che abbiamo detto fino ad ora ci concentriamo sulla geometria di un vulcano la semplificazione la faremo per esempio sulla geometria la prima cosa che notiamo di un vulcano è la sua forma la notiamo da terra ma perfino dall'alto dal satellite questi sono vulcani visti da satelliti diversi sono ovviamente anche vulcani diversi il primo a sinistra è la caldera di Santorini che è un vulcano in Grecia il secondo caso è la foto di una serie di vulcani che formano l'isola di Hawaii in mezzo c'è il Mauna Loa e poi tutto intorno ci sono gli altri vulcani e la terza foto è la foto del monte Olimpus su Marte ed è che secondo me è molto interessante perché guardandola ci si accorge che anche i vulcani degli altri pianeti che si formano in condizioni che sono ben differenti da quelli dei terrestri sono tutto sommato assomiglianti ai nostri tornando alla semplificazione diciamo che la semplificazione della topografia è la prima che possiamo fare ovviamente ogni volta che però semplifichiamo dobbiamo farlo con la testa raccogliendo l'essenza dell'oggetto che vogliamo studiare il profilo per esempio di un vulcano è quello che ci aiuta di più perché ci sono proprio dei profili caratteristici per diversi vulcani allora qui ho raccolto degli esempi che sono veramente splendidi nel primo caso in alto a sinistra abbiamo la forma dello strato vulcano Cotopaxi che è tipica appunto dei vulcani che hanno delle lave viscose che non fluiscono bene, rimangono nei pressi del vulcano accumulandosi ed intervallandosi anche con altri prodotti piroclastici di eruzioni più esplosive questo crea delle pendici molto ripide infatti il vulcano è a punta il secondo, che è quello in centro è un vulcano a scudo è il Mauna Kea alle Hawaii uno di quelli che formavano l'isola precedente che abbiamo visto in precedenza è caratterizzato da lave molto fluide che creano delle pendici morbide e si accumulano dolcemente e viaggiano anche più distanti il terzo, che è la caldera di Santorini è il caso di una caldera che si forma in seguito ad una grandissima esplosione dove la maggior parte dell'edificio vulcanico viene spazzato via ovvero quasi azzerata ed infatti è piuttosto piatta rispetto agli altri nel caso dei modelli di vulcani molto spesso si sceglie per esempio di non modellare la topografia perché si ritiene che non sia fondamentale anche perché proprio non è rilevante per le osservazioni che vogliamo fare ma noi nel nostro esperimento useremo una bella topografia che è un bel cono che ci piace che è quello del Cotocopaxi quello in alto a sinistra lo vedremo dopo quando facciamo una semplificazione abbiamo detto possiamo definire una forma tipica e queste potrebbero essere le forme che rappresentano ciascun vulcano una un po' più appuntita una un po' più degradante comunque con un angolo inferiore e una quasi piatta a questo punto abbiamo la topografia l'altro elemento fondamentale del vulcano è la camera magmatica neanche non vi sto a raccontare che cos'è una camera magmatica perché probabilmente tutti lo sanno infatti quando leggiamo nei libri i vulcani sono fatti proprio così più o meno come sono rappresentati qua ovvero una topografia un vulcano con un cono e la camera magmatica già questo è un modello è un'idea di vulcano ma come facciamo a sapere come è fatta la camera magmatica se non possiamo toccarla con mano per esempio abbiamo detto che non possiamo entrare all'interno di un vulcano attivo in realtà è vero non possiamo entrare sottoterra all'interno del vulcano attivo ma per fortuna ci sono dei processi geologici come l'orogenesi durante i quali con la formazione delle montagne alcune delle rocce che stavano in profondità vengono portate in superficie e così anche può essere per il magma che una volta raffreddato e solidificato è diventato roccia questo ha permesso di esporre delle vere e proprie camere magmatiche antiche agli agenti atmosferici che erodendo le montagne poi le hanno portate alla luce ed è studiando queste rocce che i geologi riescono a raccogliere informazioni su come sono fatte all'interno e un po' rassicurarci che le camere magmatiche esistono in questo caso abbiamo il caso del Torres del Paine che è un caso che è una fotografia bellissima di una camera magmatica che è antica cristallizzata quindi il magma è già solidificato ed è corrisponde alla parte bianca ovvero il magma si è intruso all'interno delle rocce nere che sono le rocce sedimentari che lo contenevano i geologi quello che fanno i geologi camminano vanno vanno sul sul terreno e ne identificano i processi interni ma anche la forma e le dimensioni così forse si riesce a vedere meglio più o meno una volta che abbiamo alcune informazioni come per esempio la topografia la forma il vulcano e la camera magmatica possiamo costruire il nostro modello i modelli che io costruisco nel mio lavoro sono dei modelli numerici tridimensionali fatti al computer quindi quando dicevo ai miei amici che mi occupo di fare dei modelli di vulcani quello che intendevo è che lavoro al computer tutto il giorno per creare dei modelli che con delle formule matematiche che possano calcolare come si deforma un vulcano ovviamente i miei amici erano super entusiasti erano super entusiasti perché ovviamente credevano che facessi dei modelli con un vulcano in 3D che si può toccare e che anche erutta loro pensavano che facessi esplodere dei piccoli vulcani in laboratorio potete immaginare la delusione ma diciamo che comunque non mi sono non mi sono demoralizzata e alla fine sono riuscita anche a coinvolgere a coinvolgere i miei amici e a renderli comunque entusiasti del mio lavoro e tutti in genere per darmi un'ultima speranza mi chiedevano ma qualche vulcano lo fai almeno con la sabbia almeno con la sabbia lo fai in realtà non ci sono solo i modelli numerici ma in effetti alcuni aspetti dei vulcani vengono studiati nei centri di ricerca anche con dei modelli che si chiamano modelli per analogia ovvero modelli fisici toccabili su cui mettere le mani che usano diversi tipi di materiali anche quindi alcuni ricercatori usano davvero dei modelli fatti con la sabbia per rappresentare le rocce dei vulcani e studiare le strutture che si formano sui vulcani in questa in questa immagine abbiamo due due casi a sinistra i primi due a sinistra per esempio in questi casi in questi due modelli sono stati usati per studiare le fratture che si formano durante il collasso degli strati superficiali che sono rappresentati da questi strati alternati di colore alternato di sabbia viene usata sabbia alternata colore alternato per identificare meglio le fratture e questi modelli sono stati usati per appunto per studiare le fratture dovute che si creano in seguito allo svuotamento di una camera magmatica e anche per trovare delle relazioni tra queste fratture e le camere magmatiche stesse che un po' assomiglia a quello che faremo oggi in alto a destra c'era un video con un modello che simulava la risalita di magma in superficie sempre fatto con la sabbia in realtà in realtà il mondo dei modelli per analogia è vasto ed usa un sacco di materiali differenti alcuni usano la gelatina invece che la sabbia altri usano il miele si può usare lo sciroppo le schiume o la cera che si raffredda per esempio per simulare il magma il tutto per cercare di simulare processi diversi per esempio appunto come il magma si muove o come si raffredda in profondità o come si formano appunto le fratture ci sono pure modelli modelli misti che usano diversi materiali assieme come questo nella prima immagine a sinistra che ha usato la sabbia per simulare le rocce e il miele e una camera magmatica piena di miele per appunto simulare la camera magmatica che è quella un po' schiacciata sotto i punti chiave dei modelli sono sempre gli stessi la semplificazione la possibilità di misurare e di ripetere l'esperimento e ovviamente i parametri che descrivono il modello eppure essendo semplici in scala ridotta potete vedere che i modelli mostrano davvero delle strutture simili a quelle che si inserono sui vulcani questa foto in alto a destra è come a Pariva e a Chilauea dopo che il magma è uscito dal bacino magmatico al di sotto del cratere sommitale e queste sono le fratture ottenute nel momento queste sono le fratture queste sotto sono le fratture ottenute nel modello visto in precedenza diciamo che più o meno si assomigliano si vedono delle similitudini vi chiedo di ricordarvi queste immagini sia quella del Chilauea sopra del vulcano attivo che quella sotto fatta con la sandmosk del modello perché andremo a fare qualcosa di simile in un attimo usando la sandbox che con l'aiuto della regia vi faccio vedere in un secondo la sandbox è una parola inglese ed intuitivamente vuol dire scatola di sabbia effettivamente è una scatola piena di sabbia ed è quella che useremo per fare il nostro esperimento se vi ricordate la foto del Chilauea con le fratture in sezione quello che è successo al cratere sommitale del Chilauea quando è collassato è stato un asuotamento della camera magmatica il magma è uscito e lungo queste fratture è sceso un pistone perché non è più riuscito il magma non è più riuscito a sostenere la parte superficiale portandosi dietro anche un po' di detriti e di materiale lateralmente indicativamente il cratere che si è formato sopra era più o meno delle dimensioni del bacino del magma che era di sotto noi cercheremo con la sandbox di vedere se riusciamo a replicare un po' questa situazione ma con la topografia sopra faremo quindi dei modelli ne faremo due ma per entrambi abbiamo bisogno come in genere si fa di definire alcuni aspetti del modello allora il profilo del vulcano l'avevamo scelto prima è il profilo che ci piace di più è quello del cotopaxi quindi abbiamo un forma a punta poi la camera magmatica che decideremo in questo caso di simulare con un palloncino che andremo prima a gonfiare e poi a sgonfiare per simulare la fuoriuscita del magma della camera magmatica e poi ci serve appunto una definizione di un parametro che definisce la camera magmatica e che possiamo misurare per esempio la forma della camera magmatica faremo due camere magmatiche di forme diverse una più grande e una più piccola io le ho già misurate qua per semplicità una più grande e una più piccola e andremo a misurare poi gli effetti dello sgonfiamento di queste due camere magmatiche sulla superficie ovvero misureremo il cratere generato da questa camera magmatica e vedremo se effettivamente le fratture superficiali corrispondono più o meno alla camera sottata sotto e poi lo faremo lo stesso esperimento con la seconda camera e vedremo se effettivamente corrisponde le fratture generate dallo sottamento di questa camera corrispondono a queste se alla fine ovviamente le due si sono differenti per fare ciò abbiamo bisogno di una sandbox noi in questo caso abbiamo una sabbia che da lontano e dalla telecamera sembra farina ma vi assicuro che è sabbia voi in realtà potete replicare il modello anche con sabbia che magari trovate in spiaggia ma forse adesso siamo un po' tardi e le vacanze sono finite ma forse potete farlo con la farina e con un palloncino un po' più piccolo quindi dovete scalare un po' il sistema e il modello allora il primo modello che faremo sarà quello fatto con la camera magmatica più grande io avevo già fatto un modello in precedenza adesso recuperiamo con l'aiuto della regia eccoci recuperiamo il palloncino che sta qui sotto lo si vede confiamo due volte per la prima camera magmatica che è più grande e una sola volta per la camera magmatica la seconda che è più piccola andiamo a vedere se più o meno corrisponde per avere un punto di riferimento un parametro di riferimento alla camera che avevamo segnato diciamo che è un po' più piccola forse possiamo riempirla di più ecco così sembra più adatta a quel punto ci serve l'edificio ovvero la topografia la forma del vulcano che avevamo deciso in precedenza ovvero un vulcano appuntito ok a questo punto l'abbiamo ricoperto totalmente e possiamo pian pianino svuotare la camera magmatica per vedere dove si formano le fratture e si assomigliano un po' a quelle che avevamo già visto nel caso reale sto svuotando pian piano questo è il collasso ultimato e a questo punto quello che possiamo fare è misurare il cratere ottenuto ottenuto ok questo è la nostra misurazione e la conserviamo poi la confronteremo con l'altra ora ripetiamo l'esperimento con la camera magmatica più piccola in cui riempiremo il palloncino confieremo il palloncino solo con un'unica soffiata devo svuotarlo perché altrimenti non riesco a confiarlo non riesco a confiare il palloncino ok abbiamo gonfiato una volta verifichiamo che abbia le dimensioni che vogliamo e sembra che ci siamo a questo punto ripetiamo la costruzione del vulcano sempre il nostro vulcano a punta ora sconfio il palloncino pian pianino e questo è il cratere che si ottene sconfiando il secondo palloncino ovvero quello più piccolo andiamo a misurare il cratere ottenuto rispetto alla camera che abbiamo usato si vede che come l'altro leggermente è un po' più grande vuol dire che alcune parti delle pareti sono cadute probabilmente all'interno ma se andiamo a confrontarli adesso con l'aiuto della regia riusciremo possiamo confrontarli vediamo che effettivamente ad una camera magmatica più grande corrisponde un cratere più grande e una più piccola corrisponde un cratere più piccolo ora questo è un esperimento fatto al variare variando un unico parametro ma voi potete ripetere variando un sacco di parametri variando la profondità per esempio della camera magmatica oppure potrei suggerirvi di usare palloncini con forme differenti e vedere quali sono gli effetti al sgonfiare il palloncino questo è quello che volevo più o meno farvi vedere io spero che vi possiate divertire in futuro magari provando più esperimenti magari potete scrivere qua sotto se avete avuto delle esperienze positive o negative o delle esperienze che vi hanno confuso nel fare l'esperimento potete scriverlo nei commenti se adesso avete delle domande potete scrivere nei commenti cercheremo di dare delle risposte a queste domande sotto nella descrizione del video ci saranno anche dei link vi prego se potete rispondere ai questionari che sono linkati ai link vi auguro una buona giornata e vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo webinar grazie e ciao a tutti grazie